E' già, vostro marito è solo il principe consorte. Tu sei la principessa Montorsi. E' carino? Ma qua, principessa. L'unico affare che ho fatto nella mia vita è stato quello di sposare a te. Ma io non lo sapevo che erano affare. Questa è annunziata. Ma perché ci dobbiamo nascondere? Perché comunque ci sarà da affrontare uno scandalo. Io mi chiamo Montorsi. Non l'affronterei. Perché io, io ti avevo capito subito a te, Kiki. Perché io lo sapevo che tu mi volevi bene. Io non ti volevo bene. Io ti voglio bene. Assai. Sempre, sempre. Serigna, ma voi vedete com'è strana la vita. Mia moglie, nipote di pastaio, è diventata la principessa Montorsi. E quegli Arulo, nipote di mulattiere, è diventata pastaio. Ma è rimasto cafone come i suoi avi. Ti vuoi mettere bene in testa che su questa fabbrica ci cabba mezzo paese pure tutti quanti noi? Ah sì? E allora che facciamo? Distruggiamo la storia. Sì. La storia è diventata che su questa fabbrica ci cabba mezzo a te, Kiki. E allora che facciamo? 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 E allora che facciamo?